Buongiorno, siete bravissimi voi che fate tutte le cose. Arrivo al laboratorio del teatro dell'opera, al laboratorio di scenografia e questo è il Montacarichi. Alle nostre spalle una scena magica, è proprio la fabbrica dei sogni qui al laboratorio di scenografia e abbiamo con noi Maurizio Varamo che da tanti anni dirige questo settore. Benvenuto nella nostra Good in Italy Web TV che si occupa di eccellenze italiane. E' certo, questa è una delle cose che in Italia non si conoscono tanto, ma questa è veramente una nostra eccellenza perché indipendentemente da tutte le altre che vengono citate, sia l'opera sia la moda e tutto, Questa è la pittura di scenografia all'italiana, è proprio una nostra eccellenza, l'abbiamo inventata noi italiani e l'abbiamo esportata in tutto il mondo, come un'altra cosa che è esclusiva degli italiani è il teatro dell'italiana, se voi pensate in tutto il mondo si agisce su teatri all'italiana. Queste sono due nostre grandi peculiarità che vengono un po' trascurate e invece dovrebbero essere il fiore all'occhiello e dovrebbero essere anche un modo per ottenere quei famosi contributi dalla comunità europea che non riusciamo mai a sfruttare. E questo però purtroppo è un problema di burocrazia e di burocrati che non sono in grado di ottenere questi risultati. Ecco, la scenografia all'italiana, qual è la peculiarità e se vogliamo spiegarlo ai nostri telespettatori? Sì, è che tenendo la tela a terra, inchiodata con dei chiodi che sono appropriate a questo che si chiamano brocchette e vengono realizzate ancora oggi artigianalmente, la tela viene prima preparata con un'imprimitura, si chiama, cioè una preparazione per poterci lavorare sopra, dopo viene inchiodata a terra e lì si comincia sia a dipingere e sia prima a disegnare e poi a dipingere. In piedi con questi lunghi pennelli, cioè evita il fatto che per esempio in Inghilterra si fa in piedi su pareti verticali, però chiaramente uno su una parete verticale non ci può camminare, si muove sempre con un trabattello e quindi questa tecnica italiana, oltre al facile controllo di quello che si sta realizzando perché lo vedi già a distanza, anche la velocità di poterci camminare sopra. Non c'è dubbio, quindi questo laboratorio varrebbe la pena di valorizzarlo? Sì, ma siccome tutto questo viene visto come una cosa che è di altri tempi, non capendo che la pittura, la tradizione, può essere fatta anche con tecniche moderne, tra l'altro la peculiarità del Tato dell'Opera è di aver fatto lavorare tutti gli artisti del Novecento e qui hanno lavorato grandi maestri. Per citarne qualcuno? E beh, c'è De Chirico, Manzù, Butuzo e via dicendo. Fino a Turchato che è stato l'ultimo che ha lavorato qui e quindi creando anche con la pittura delle cose anche d'avanguardia. Poi c'è anche la parte che viene usata con i colori utilizzati secondo un vecchio sistema. Sì, i colori sono sempre quelli della tradizione che proprio parte dal Cinquecento, dai grandi maestri, le famose terre che poi vengono miscelate con delle colle sia animali che biniliche per poi appunto poter essere messe su questa grande tavolozza e dipingere. Quando c'è stata la giornata del FAI ci sono state lunghe file, quindi non è vero che la gente non è curiosa, anzi, senza contare che questo laboratorio è stato progettato da Clemente Busirivici che è un architetto che ha pensato proprio per il laboratorio, non utilizzando le colonne per permettere che la luce potesse entrare a 360 gradi. Allora, ricordiamoci che siamo originariamente in un pastificio. Questa sopraelevazione che vediamo è stata fatta a postuma quando il governatorato di Roma, dopo aver avuto in gratuita concessione questo spazio dalla famiglia Pantanella che l'ha donato al governatorato di Roma, pensò di trasferire qui i laboratori del Teatro dell'Opera e i magazzini anche. Per questo c'era bisogno di creare questo salone per la pittura, quindi una sopraelevazione e possiamo vedere, c'è anche un esempio dei primi esempi di capriata in cemento armato. Questa rielaborazione dello stabile e la riconsolidazione del tutto con plinti di cemento armato che sono scesi fino sotto e all'epoca scoprirono il famoso tempio del dio Mitra. Quindi noi siamo addirittura in duemila anni di storia, cioè siamo sopra a duemila anni di storia. Sì, 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 sì. È un posto magico che però Maurizio Veramo anche valorizza con eventi particolari. Noi vedremo la terrazza, per ora diciamo spoglia, ma durante serate particolari, privati, per grandi marchi, per grandi realtà, diventa un posto magico. Grazie alla fantasia e alla creatività di Maurizio Veramo. Beh, questa è una cosa che io ho sempre voluto e sempre pensato. Tra l'altro uno dei miei primi spettacoli di opera, quando noi avevamo ancora il Teatro Brancaccio, una famosa cenerentola, io ho avuto la sponsorizzazione di un noto marchio di abiti da sposa, che quindi ha l'epoca, stiamo parlando più di vent'anni fa, quindi è già all'epoca pagò le spese dello spettacolo e poi sfruttò lo stesso impianto scenico per fare una sfilata di moda, dove addirittura per la prima volta anche Cadia Ricciarelli si cementò come modella. È un settore di specializzazione questo, ci sono dei giovani interessati? Sì, sì, ci sono dei giovani interessati, ma c'è da dire che anche dalle accademie non vengono spronati a capire questa cosa. Molti dei giovani, anche di quelli che fanno scenografia, non conoscono questo mestiere, questo è patrimonio italiano. Molti stranieri vorrebbero venire ad imparare... Quindi potrebbe essere anche esportato, tra l'altro. Un mestiere. Io ho fatto venire addirittura una ragazza dall'Estonia, quando andai in Estonia a fare uno spettacolo e parlando proprio di questo, la modernità, realizzai una coppeglia, ispirandomi ad Escher. Questo è un fatto di capire, ed è un fatto di cultura, ed è un fatto di capire anche che le cose dipinte favoriscono anche l'allestimento poi in palcoscenico. A differenza di quello che in tutto il mondo si vede oggi, macchinismi, in ferro, videoproiezioni, l'abuso delle videoproiezioni. Io sono d'accordo che ci siano delle videoproiezioni, però l'opera non deve diventare un film. Anche Zeffirelli, nella intervista, io l'ho ripresa nell'omaggio a Zeffirelli, ha sottolineato il fatto dell'importanza della tradizione. Assolutamente. Lui poi è stato un allievo anche dei grandi maestri, come Lila De Nobili, che la sua, poi, Zeffirelli era uno che sapeva dipingere, sapeva fare, era proprio nato con questo culto, con questo amore, e sapeva fare il giusto connubio con le cose, usando anche nuove tecnologie, nuovi materiali. Un giudizio sull'ultima opera, proprio postuma, nel senso che ha firmato quest'ultimo allestimento a Verona? Certo, è un allestimento, purtroppo si vede benissimo che lui non era lì. Per uno che, come me, ci ha lavorato insieme e che sapeva quanto fosse attento ai dettagli, ma le cose le più piccole cose, e niente. E quindi hai un po' sofferto il maestro Maramo. E io, sì, veramente un po' sofferto. Ecco, per lanciare un messaggio, allora, ai nostri telespettatori, che amano le eccellenze italiane, un suo saluto, un suo messaggio a chi ci sta ascoltando, magari a un giovane. Ma i giovani, allora, per i giovani io dico che si deve fare il giusto connubio tra la tradizione e l'avanguardia. Però dovrebbe essere veramente il giusto connubio tra l'uno e l'altro. Tradizione e innovazione, questo è il messaggio che Maurizio Maramo ci vuole dare. Grazie dell'intervista. Grazie a voi.